Prova, prova, sa, sa. E allora, ehi, con questo fare un po' da DJ anni 80, torniamo il 6 di novembre qui a Daz per un nuovo appuntamento di Azz la serata che non c'era, allo Steam Station e tornano delle grandi, vive, nostre amiche che ci accompagneranno durante la stagione, torna Dragrovina, Luciana col pizzetto e direttamente dalla Romagna arriva Laila e poi ci sarà lei, la nostra indiscussa padrona, eh, va bene? Eh, Matteo, per favore, smettile di fare il deficiente, riprendi a lavorare! Sto lavorando, questo è un microfono, sto facendo il lavoro vero, parlo del lavoro vero, lavoro vero, ah, ok, vabbè, eh, padrona, va bene così? Vai, vai, pulisci meglio, eh, vabbè, ci vediamo al 6 di novembre, pingi, mettere una mano, dai, pingi, vieni qua un secondo, dai, Ma perché si scivola per l'altro la cera? Andate a non cadere! Pingi, 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 pingi! Pingi, 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 seri che creativeNeino non è Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti